ciao benvenuti in questa splendida location ah no scusate mi sono un attimino imborghesito volevo farvi ringraziamenti per tutti quelli che si sono iscritti al mio canale e ricordarvi che il 28 lunedì ci sarà un'altra puntata di Osvaldo Gigione vedete non so se si riesce a vedere bene ecco qui questa volta in fase domenicale quindi in fase di riposo per il povero Osvaldo chissà che cosa succederà invece giovedì 31 aspettate che butto il cellulare giovedì 31 ci sarà un'altra puntata ma più che altro è una barzelletta non ci sono personaggi specifici e comunque si chiamerà l'osservatore una breve battuta però una clip molto divertente volevo ringraziare quattro amici youtuber che comunque sono per ora i più affezionati a Risate e Carbonara e vado a fare scusate vado a fare i nomi quindi Luna Grey Channel scusate che leggo un po' sotto perché sono un po' rimbambito quindi li dai in combe poi c'è mister fee un altro di quelli dei primi che hanno seguito a Risate e Carbonara poi c'è Chiara's Life e l'ultimo iscritto uno degli ultimi iscritti è Tubo Comico che apprezza molto i video di Risate e Carbonara soprattutto quelli in cui mi travesto in Borghese non in Borghese in Alessandro Borghese comunque niente sembra di aver detto tutto quanto quindi continuate a seguire Risate e Carbonara se vi fa piacere condividete i video e magari quando avrò fatto un po' più diciamo di iscritti probabilmente farò qualche live e va bene quindi ci aggiorniamo e poi magari la prossima settimana farò altri saluti altri amici youtuber ok ciao Ciao Ciao